Sì, senza dubbio sapevamo che era una parità molto difficile, faccio i complimenti a tutti per il primo tempo perché abbiamo fatto il massimo per rimanere in partita e credo che ce l'avamo, meno 4, non è male contro una squadra del genere. Peccato per il secondo tempo, forse dobbiamo migliorare in questo, siamo calati gli ultimi 10 minuti, non dovevamo anche per rispetto a questo magnifico pubblico che non ha smesso mai di tifarci anche sul meno 13 fino all'ultimo secondo. Noi andiamo in Austria per migliorarci, è tutta esperienza per noi perché la nostra squadra è molto giovane, però sappiamo benissimo che sarà molto più dura di come è stata oggi, però non nascondiamo che in Finlandia vogliamo provarci perché abbiamo visto che è una squadra a nostra portata, noi è tanto tempo che non vinciamo fuori casa una partita seria e poi dopo ci aspetta l'ultima in casa con la Ramania dove non vogliamo certo sfigurare davanti al nostro pubblico, ce la metteremo tutta. Soppevamo che sarebbe stata dura, come ci è già successo anche in passato contro le altre squadre forti, teniamo un tempo, poi loro tengono il ritmo alto, noi abbassiamo un po', ma non perché vogliamo, ma perché non ce la facciamo e questa è la differenza. Sì, all'andata abbiamo fatto bene contro la Finlandia, speriamo di fare un bel risultato anche su, le altre due partite sappiamo chi sono gli avversari, sarà dura, daremo il massimo come l'abbiamo sempre fatto e penso anche che saliremo un po' più passa il tempo invece di abbassare perché siamo entrati da una pausa di 10 giorni, invece gli altri giocavano alla Bundesliga, no?